I frigo congelatori Electrolux della serie 700 sono dotati del cassetto Green Zone che preserva più a lungo i nutrienti e le caratteristiche organolettiche di frutta e verdura permettendoti di gustare alimenti di qualità più a lungo e senza sprechi. Scopriamo meglio di che cosa si tratta. Green Zone è un cassetto speciale che grazie alla sua chiusura ermetica crea un ambiente sigillato e separato dal resto del frigorifero con parametri di umidità e temperatura specifici per gli alimenti facilmente deperibili come per esempio frutta e verdura. Il controllo preciso dell'umidità permette a questi alimenti freschi di conservarsi più a lungo nelle condizioni ottimali cioè né troppo umidi né troppo asciutti evitando la formazione di eccessi di condensa e proteggendo gli ingredienti freschi con un grado corretto di umidità. Alcuni test hanno evidenziato che nel comparto Green Zone frutta e verdura arrivano a conservare fino al 95 per cento delle vitamine anche dopo 11 giorni. Frigoriferi Electrolux serie 700 con cassetto Green Zone, lo spazio ideale per una sana alimentazione e per combattere lo spreco alimentare.